Good morning, welcome, traduco in italiano perché molti magari non sanno cosa vuol dire good morning, buongiorno, welcome, benvenuti. E apro subito un argomento. Trovandoci in Italia, essendo l'Italia il 65% dell'Europa, cosa che nel resto d'Europa viene dimenticato troppo spesso, essendo la pelle italiana prima su molti mercati ed essendoci oggi una traduzione simultanea, sto parlando lentamente appunto per consentire il lavoro alle nostre ottime traduttrici, noi parleremo in italiano. La giornata è molto lunga ed è una giornata che è dedicata alla pelle, al trionfo della pelle, a prescindere dalla sua nazionalità. Quindi per avviare immediatamente i lavori, proiettiamo il video con i saluti dei soci di ICT, che è l'associazione dei concettatori italiani.